uno promette di non fare il video per non sparare la croce rossa ma poi si accorge che c'è ci sono anche quella gialla e quella verde a cui sparare il weekend superbike lo avete visto come è andato è passato qualche giorno io sono troppo pigro però vabbè il video lo faccio lo stesso insomma è stato abbastanza rocambolesco ormai non mancano mai le rotture e le gomme fallate quasi sempre a melandri ma davvero anche se secondo me silvano galbusera guardava l'ammortizzatore posteriore dopo gara 2 con troppo interesse il tecnico di marco e poi le fesserie dei piloti detto questo sono le corse così come capitano incidenti tipo quello tra rossi e bautista così capita di sbagliare moto cp in superbike la superbike è sempre stata più sanguigna anche in questo rispetto ai prototipi come al solito è successo di tutto fra pioggia situazioni strane in pit lane ai box nel giro del lineamento prima si diceva che la colpa era dell'organizzazione perché c'era in front ma la dorna ha cambiato qualcosa no evidentemente proprio caratteristica della superbike quella di far succedere tutto in maniera incontrollabile e la tv non sa raccontare non sa spiegare quello che succede prima dicevano che era colpa di la 7 ma mediaset fa di meglio come mezzi sì ma come spiegazioni come capacità di raccontare quello che sta succedendo non va bene la tv si è accorta a malapena di quello che stava accadendo davvero sicuramente non è riuscita a raccontarlo a chi guardava da casa il commento super tecnico di viaggi e rangheri va bene a metà viaggi fa il super tecnico ma rangheri non fa il commentatore fa il super tecnico anche lui è una specie di gara fra loro due una gara persa in partenza secondo me soprattutto quando non serve troppo tecnici sempre ma quando è il momento di spiegare le cose che stanno succedendo i regolamenti tutto quello che bisognerebbe sapere del libro della super bike mancano è un po come essere eccitati tutto il giorno e sgonfiarsi quando si arriva dalla fidanzata serve un po di vigore se piove michelle fabrizio non si qualifica perché nella prima sessione di qualifica non ha girato casa programma tecnico non è così sbagliato basta fare il 107 per cento in una sessione dimostrare la direzione gara che ha il potere discrezionale di ammettere chi vuole che non si è d'impiccio il 107 serve a quello fabrizio nella libera era secondo per cui niente regolamento non lo sanno idem per la pioggia all'inizio della super pol 2 il disperso professionalmente parlando luca budel dice pare che si farà una sessione unica da 20 minuti come pare aveva più certezza mia madre da casa bastava andare su internet e leggere regolamento cosa che evidentemente a medici non ritengono opportuno fare probabilmente si sentono superiori anche a questo c'è una regola scritta che parla della super pol bagnata un unico turno 20 minuti ok per quanto riguarda la caduta di sykes separato di tutto tranne di quello che sarebbe successo in caso di mancato allineamento di partenza dei box eccetera manca proprio la consapevolezza del regolamento per quanto riguarda la reazione dei piloti gli addetti lavori ormai c'è così paura del gossip a cazzo di cane che arriva insieme al giornalista medicine che di solito si avvicina con un avvoltoio in caso di caduta rottura errore defiance stile alfonso signorini che tutti fingono di essere contenti qualsiasi cosa sia successa anche a fuori giri fra gara 1 e gara 2 ha piegato la moto però bello bello andato bene perché hanno capito che il segreto è non farli eccitare non far capire che c'è qualcosa che non va così quelli si sgonfiano e via e cose importanti però non le spiegate e a questo che deve essere legato poi il micro avvenimento più buffo del weekend un articolo curioso su motociclismo.it da parte di chi non c'era ossia il suo vice direttore federico liverti che è quello che dava del burino a viaggi su twitter per intenderci faccio un passo indietro per spiegare ai più giovani cosa sia motociclismo motociclismo insomma per spiegarlo a chi ha meno di 50 55 anni che poi l'età media del lettore con le bifocali che legge questa rivista qua è quella rivista che da circa 100 anni racconta che le moto vanno tutte bene fino a quando non esce il modello successivo è quella rivista che proprio ad opera del suo vice direttore aveva detto che uno scooter senza il traction control aveva il traction control migliore di uno che ce l'aveva tutto così su carta diffonde dati abbastanza improbabili mi riferisco a vendita e diffusione ma su internet non si imbroglia e i dati audio web certificati dicono che ha circa 12 13 14 mila visitatori unici mese più o meno spero di non sbagliarmi più o meno come una foto postata su facebook su mister helmet in un paio di giorni c'è bisogno di una botta di adrenalina ed ecco quindi un articolo senza senso impaginato un po così da uno che è la prima settimana del corso di webmaster tutto sfocato la foto eccetera così per farsi cagare un po dei giovani se parlo strano metti jeans strappati dico qualche puttanata così il cappellino girato magari i giovani mi si filano faccio le corna che ne sono un rutto un rutto ecco che cosa secondo me c'è su quella pagina lì non importa se non ho visto la gara di apportimau né nessun altro del del mondiale tanto dico che è un inviato segreto anche se poi sul facebook non spiego chi è l'inviato segreto funziona sempre nel pezzo la superbike non è di serie b ma fa di tutto per sembrarlo troppi guasti tecnici due case giapponesi e due case italiane rompono sarebbe mai successo in gp ma magari vorrebbe dire che almeno ci sono quattro case e in gp non ci sono veramente quattro case vere melandri cede 35 secondi per una gomma cosa si fa fra gara 1 e gara 2 quando si è vinto la prima generalmente non si modifica nulla tutt'al più si affina leggermente la messa a punto di certo non si stravolge l'assetto figuratevi che effetto fa a vedere melandri dietro chas davis e bla 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 poi è stato chiaro a tutti che fin dal secondo giro che marco aveva una gomma difettosa e allora non ha cambiato l'assetto te l'ha detto lui che non ha cambiato fai tutto un discorso sull'assetto e poi dici che è una gomma difettosa marco ha detto che non ha cambiato l'assetto poi tu non c'è libera un altro discorso un'altra cosa clamorosa sa ex perde la testa nel campionato cadendo nel giro di ricognizione ipotizzabile una e sai ipotizzabile sarebbe mai successo moto gp sì e infatti poi dopo nello stesso pezzo c'è un video di stoner che accade tanto per dare anche un colpetto a stoner e allora che discorso fai se sarebbe sarebbe successo in moto gp io magari mi sbaglio però ho maturato un'idea a meno che qualcuno non gli abbia rubato il computer lo smartphone non si sia impossessato del suo account scrivendo fesserie come facevamo noi in gita scolastica quando andavamo a fotografarci il pisello con le macchine fotografiche delle compagne di scuola è andata così facciamo che io sono il vice direttore di motociclismo la rivista non va la pubblicità non si vende vale il web dove non mi caga nessuno allora sparo tre quattro cose a bambara su twitter mi faccio cliccare magari la butto un po in casino dico cose un po su un evento senza averlo visto poi mi contraddico dico che sono napoleone vedo la luce l'accendo la spengo faccio un po così dal punto di vista dei contenuti qualche clic lo faccio purché se ne parli no dicevano una volta è infatti una roba da 1920 secondo me non funziona così i social sono uno strumento incredibile danno a tutti la possibilità di fare farsi conoscere ma anche di fare figuracce infatti nei commenti è un massacro ovviamente sperava di fare tutti quei commenti ma non così è perché comunque anche troppo poco perché si rendono conto che una persona in un momento molto difficile allora cerco di rimediare come direttore metto su facebook ogni cinque minuti che giro il 51 portimao così divento più figo e quindi quello che dico diventa vero dimenticando però una cosa a un giornalista anche se insomma un giornalista si chiede di osservare e riferire non di fare male il lavoro di un altro e vantarsene anche al secolo del pilota i protagonisti sono i piloti e i giornalisti secondo me hanno l'obbligo morale di raccontare senza sfoghi personali magari andando all'evento magari no oppure magari andando un evento spesato come il prossimo gran premio di catalunia in cambio di uno speciale su un team la butto a caso così oppure fai il tester ecco volevi fare il tester forse magari che fai il tester e scrivi che le moto vanno più o meno bene a seconda di quanta pubblicità comparano le case oppure fai quel cazzo che vuoi senza prenderti sul serio allora ti chiami blog almeno sei un po più vignitoso